Dopo il grande successo di Cineco TV, Cipri e Maresco tornano in videocassetta a casa vostra con Lo zio di Brooklyn, definito il film di fine secolo e il caso più singolare dell'anno. Lo vede questo cane? E allora? In confronto agli attori di questo film è Ducas Fabians Senior. Lo zio di Brooklyn, un film devastante. Ma che fa? Contro gli spettatori!